Sarà il primo tecnico ad aver allenato sia in Norolega maschile che ora in quella femminile, così come a 30 anni si rivelò il più giovane coach ad aver conquistato con la Masch Verona una Coppa Korach. Andrea Mazzon, per raggiungere questo traguardo, torna da dove era partito, dalla Reier, chiamato dalla dirigenza a guidare De Oro Granata alla conferma dello scudetto, e essere protagonista in Europa. E per Mazzon, che in questi 8 anni ha allenato negli Stati Uniti, in Cina e in Russia, c'è un nuovo tuffo nell'ignoto, quello del basket femminile, dove non ha mai allenato, senza dover stavolta però prendere un aereo. Certamente è un qualcosa di strano, qualcosa che non avrei mai pensato, una cosa che devo anche essere o non essere, non l'avevo nemmeno mai contemplato, è anche realistico dire che dopo il primo momento un po' di smarrimento, ho interiorizzato questa cosa, sono venuto qui, ho fatto un giro, ho capito alcune cose, ho sentito l'affetto sia della proprietà che del Presidente, e questo è stato molto più importante di qualunque altro tipo di cosa. Quanto ha contato l'esperienza trasmessa, diciamo, dal genio da Mazzon, che aveva vissuto appunto entrambi i campi? Beh, è stato fondamentale, sarei veramente bugiardo a dire il contrario, lui è stato fondamentale, lui è con Federico l'artefice di questa cosa sicuramente. Un'Europa diversa, ti dicevo, è una squadra comunque che ha lo scudetto sul petto e questa Eurolega appunto come ambizione assoluta. Ma intanto essere in Eurolega è un privilegio unico, di pochissime squadre, è un'opportunità per le giocatrici di migliorarsi, è anche un banco di prova per tutti, loro indubbiamente attraverso questo tipo di campionato possono anche scoprire le loro lacune, capire che cosa non sanno fare e credo che le farà diventare giocatici migliori. Adesso speriamo di recuperare un po' di ragazze infortunate, speravo, speravamo tutti io di essere in palestra ad allenarle, invece le ho viste ieri a Faenza, adesso le rivedrò probabilmente lunedì, martedì, perché chi torna dal viaggio, chi è andato in America, quelle con la nazionale giocano domenica sera dopo altri, un'altra settimana, due partite di lavoro, quindi io credo che il basket in campo sarà il martedì mattina. In zona di chiesa particolare è un marco di fabbrica che si porta anche in questo caso? Sono stato contento perché due o tre cose le avevamo chieste, sono state brave loro a capirle, molto semplici, molto basiche, poi ci eravamo dati un po' un obiettivo di provare a tenere l'avversario sotto i 40 punti, le ragazze le hanno tenuti a 38, quindi anche loro erano orgogliose, è chiaro che dobbiamo misurarci con altre partite. Grazie a tutti.